Il giarre di Peppe Mascara non si ferma più. Dopo aver profittato al massimo di un calendario favorevole mettendo assieme sei vittorie di fila, ieri è arrivata la certificazione dell'ottimo lavoro svolto dall'ex calciatore del Catania, con la vittoria in extremis sul campo di una diretta rivale per i play-off come il Paternò. I gialloblu si sono dimostrati più forti delle avversità, riuscendo a contenere i rivali, nonostante un tempo in inferiorità numerica per l'espulsione dell'esterno offensivo Mattia Leotta per presunta simulazione, e poi colpendoli negli istanti finali con un contropiede orchestrato da Spampinato e finalizzato dal bomber Carbonaro, il cui appoggio in rete è stato però favorito da un errore in uscita del portiere di casa. Il più classico dei gol dell'ex penalizza un Paternò che non è riuscito a scardinare un giarre ottimamente disposto in campo e bravo a non perdere l'equilibrio anche con l'uomo in meno. L'allenatore di gialloblu Mascara a fine partita ha tenuto a sottolineare il grande ordine tattico dei suoi eccellenti nel non concedere il fianco, credendo fino alla fine nel colpaccio. I gialloblu del presidente Nirelli adesso sono quarti in classifica a quota 37, con una sola lunghezza di distanza dalla coppia di vice capoliste Biancavilla e Città di Sant'Agata. Domenica per il giarre ci sarà un'ennesima prova del 9 che potrebbe aprire scenari finora mai immaginati. Alla regionale arriva infatti la capolista Città di Messina, al momento lontana a 7 punti dai gialloblu.